uno dei problemi più seri della sanità pubblica in tutto il mondo tanto nei paesi industrializzati quanto in quelli in via di sviluppo è rappresentato dalle malattie sessualmente trasmesse il cui numero di casi ogni anno risulta in continuo aumento anche a causa della maggiore mobilità e a causa dell'aumento della tendenza ad avere rapporti sessuali con più partner un tempo queste malattie venivano chiamate malattie venere dal nome di venere che era appunto la dea dell'amore oggi invece si tende a utilizzare il termine di malattie sessualmente trasmesse o meglio ancora infezioni sessualmente trasmesse per mettere in evidenza il fatto che spesso la persona a seguito di un'infezione non necessariamente mostra i segni di una malattia vera e propria ma presenta solo sintomi lievi o addirittura non mostra sintomi la scienza ha ufficialmente certificato l'esistenza di circa 20 diverse malattie sessualmente trasmissibili alcune di esse sono particolarmente temute in quanto possono causare sterilità danni al feto per le donne in gravidanza e nei casi più gravi la morte dell'individuo stesso gran parte delle malattie sessualmente trasmissibili tuttavia al giorno d'oggi fortunatamente possono essere ritenute ancora curabili e questo è il caso ad esempio della la sifilide della gonorrea della clamidia altri invece quali ad esempio l'epatite b la ids o l'hpv sono controllabili ma non curabili in maniera definitiva le malattie sessualmente trasmissibili possono essere causate da batteri virus parassiti o funghi questi microrganismi approfittano dell'attività sessuale per diffondersi da una persona all'altra le malattie sessualmente trasmissibili possono colpire tanto gli uomini quanto le donne a qualsiasi età e anche gli adolescenti soprattutto di sesso femminile soggetti omosessuali e individui immunocompromessi tendono ad essere molto vulnerabili come anticipato le malattie a trasmissione sessuale si trasmettono per lo più attraverso i rapporti sessuali con un partner che risulta infetto specie se non si è protetti dall'utilizzo corretto del profilattico occorre precisare che rapporti al rischio di contagio non riguardano solamente rapporti vaginali ma interessano anche rapporti anali e rapporti orali molte infezioni infatti sono trasmesse con liquidi organici come le secrezioni precoitali le secrezioni vaginali lo sperma il sangue perso da piccole lesioni e la saliva spesso il rischio è tanto maggiore quanto più energico il rapporto sessuale infatti il rischio di contagio aumenta se c'è esposizione al sangue in altri casi può bastare anche il semplice contatto della pelle e delle mucose genitali come accade ad esempio per l'herpes genitale o per i condilomi accuminati anche se meno probabile alcune infezioni possono propagarsi anche con l'uso in comune di asciugamani articoli da toilette indumenti umidi e sanitari già infetti eccetera inoltre ancora molte malattie trasmissione sessuale possono essere trasmesse dalla madre al figlio in gravidanza durante e dopo il parto è chiaro quindi che alcuni agenti responsabili delle malattie sessualmente trasmissibili non si trasmettono esclusivamente con i rapporti sessuali sicuramente non ci si contagia invece attraverso i colpi di tosse o gli starnuti e neppure sui mezzi pubblici in ufficio o con contatti sociali generali avvenuto il contagio inizia il periodo di incubazione la cui durata è diversa a secondo del tipo di infezione e al termine del quale si possono evidenziare i sintomi a tal proposito bisogna dire che molte malattie a trasmissione sessuale decorrono in maniera asintomatica quindi senza provocare sintomi evidenti almeno in una prima fase in pratica non avvertendo sintomi o disturbi particolari il soggetto rimane a lungo quindi ignaro della propria condizione questa caratteristica facilita chiaramente la trasmissione della malattia dato che il soggetto pur non presentando dei sintomi può comunque contagiare altre persone altre volte invece il corpo invia dei segnali più o meno evidenti che possono indicare la presenza di un'infezione sessualmente trasmissibili per le ragazze uno dei più importanti segni indicatori è la comparsa di perdite vaginali anomale se queste assumono una consistenza un colore o un odore diversi da quelli consueti è necessario prestare attenzione e accertare che non sia presente un'irritazione o un'infiammazione per lo stesso motivo durante le normali operazioni di igiene intima è sempre bene controllare l'area genitale per cogliere eventuali piccole alterazioni arrossamenti rigonfiamenti vescicoli o altri segni anomali anche il dolore durante il rapporto sessuale il bruciore o altri disturbi durante l'emissione di urina o ancora la presenza di una secrezione uretrale anomala possono indicare un'infezione in corso in tutti questi casi e per qualsiasi altro dubbio è sempre raccomandabile parlarne con il proprio medico che può dire di cosa si tratta e consigliare il trattamento più adatto al singolo caso in generale possiamo ricordare che se le malattie sessualmente trasmesse non vengono riconosciute e curate in maniera tempestiva o trascurate nella cura possono portare a complicazioni anche molto gravi talvolta irreversibili tanto nell'uomo e soprattutto nella donna alcune infezioni per esempio come la gonorrea o la clamidia si possono diffondere a livello di utero tube uterine ovaie provocando la cosiddette malattia infiammatoria pelvica trattasi di una patologia che oltre ad essere molto dolorosa se non viene curata subito può diventare cronica e causare sterilità gravitanze extrauterine e parto pretermine non solo le lesioni e le infiammazioni genitali date dalle diverse malattie sessualmente trasmissibili aumentano il rischio di acquisire e trasmettere l'hiv che il virus che poi predispone alla ids molte delle malattie sessualmente trasmesse possono essere curate in maniera efficace ma solo se vengono diagnosticate e trattate in maniera tempestiva quindi se si sospetta di averne contratta una è fondamentale rivolgersi al proprio medico per sapere che cosa fare e come comportarsi indicativamente come riferimento generale se si escludono alcune forme di epatite virale l'ids e l'herpes genitale le malattie sessualmente trasmissibili possono essere curate in maniera definitiva a patto che si segua in modo corretto la terapia indicata un aspetto molto importante che il trattamento della malattia sessualmente trasmessa deve essere esteso anche al partner anche quando non presentano sintomi in caso contrario oltre a facilitare la diffusione della malattia nelle coppie stabili si rischierebbe di ricadere in un circolo vizioso ovvero nelle reinfezioni per il cosiddetto effetto ping pong in pratica il partner se non trattato rischierebbe di trasmettere nuovamente la malattia alla compagna un altro aspetto fondamentale è l'astenzione dai rapporti sessuali fino al completamento della terapia e al successivo controllo medico che accerterà l'avvenuta eradicazione dell'infezione per ridurre il rischio di contagio inoltre sono disponibili alcuni vaccini un vaccino che viene raccomandata alle donne in giovanità e quello per il papillomavirus altro vaccino disponibile è quello per l'epatite b e per l'epatite a le strategie per combattere le malattie sessualmente trasmissibili si basano quindi fondamentalmente sulla prevenzione e su comportamenti sessuali responsabili per prima cosa il metodo più efficace nel prevenire la malattia prevede sicuramente l'utilizzo del preservativo da indossare correttamente prima dell'inizio di ogni rapporto l'uso corretto del profilattico non solo ostacola la trasmissione delle infezioni attraverso i liquidi organici ma riduce anche il rischio di contrarre malattie per semplice contatto fra i genitali come nel caso dell'herpes genitale dei condilomi e della sifilide un altro aspetto importante in chiave preventiva è legato al fatto che un'igiene intima insufficiente non corretta o addirittura eccessiva specie con prodotti non adatti può facilitare le infezioni è importante utilizzare prodotti specifici e delicati per l'igiene intima in modo da non alterare l'equilibrio delle mucose inoltre ancora è bene indossare della biancheria intima in fibre naturali come cotone evitare capi in nylon indumenti troppo stretti che possono ostacolare la naturale traspirazione della pelle in questa slide possiamo osservare quali sono le principali infezioni sessualmente trasmesse partendo appunto dalla clamidia passando attraverso la gonorrea la candida la sifilide e poi abbiamo anche il papillomavirus l'herpes vaginale e l'hiv malattie che tratteremo nelle prossime lezioni ciao ciao ciao